Esibizione numero 2, lei margherita e cioccoletta, da PsychZone Illustration. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Gli affamati comunque, lei mi tirava un po' con un cattivello. Bravissimo, grazie, grazie, questa mamma fai vincere, non me frega, giusto tributo, il reggi pannello è la mamma, lei regge il pannello, tanta pazienza ci vuole, tanta pazienza.